E bella sui ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Piccadibus82 E oggi siamo qui un'altra volta sulla vanilla che abbiamo iniziato tutti insieme E come potete già vedere questa inquadratura, ci siamo spostati E abbiamo messo tutte le chest qui, lì abbiamo iniziato a costruire una casa Perché ho visto gli altri che ho già iniziato Qui ci sono i nostri letti, qui c'è la prima farm, lì c'è un cobblestone generator E di qua abbiamo questa farm qui, che non mi ricordo come si chiama, sticosi E di qua abbiamo le bacche luminose, la farm in bacche luminose Qui abbiamo la farm di pesca, qui abbiamo le farm di grano e di altri cibi Lì ci sono i nostri cavalli, qui gli animali che stiamo allevando, i polli e i mucche E lì dove state per vedere, qui dentro, oggi ci costruiremo il magazzino Un nuovo magazzino perché ci serve veramente l'antra, le chest lì fuori non si possono più tenere Perché ogni volta esplodono i creeper Questi sono gli ultimi altri letti che ci serviranno oggi Già li ho preparati tutti qui dentro nella cesta E iniziamo ad entrare Il fuori già l'ho costruito perché non ve lo farò vedere che era molto semplice E quindi stiamo per entrare all'interno Intenta appare una scritta in chat, va bene E' molto carino secondo me anche l'esterno Allora qui dentro ho già scavato un pochino perché se no vi annoierebbe Che scavo tutto il video E beh continuiamo E qui mandiamo un po' tutto veloce Allora qui ci sono Grazie a tutti. Ah comunque se non si fosse ancora capito sto seguendo un tutorial e trovate il link in descrizione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.